Benvenuto su scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a miglior barbecue elettrico. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Cominciando la nostra lista con il numero 5, abbiamo G3 Ferrari Galactic. Siete alla ricerca di un barbecue elettrico di alta qualità che renda il vostro giardino l'invidia del vicinato? Non cercate oltre il G3 Ferrari Galactic Grill OG 10027. Questo grill di alta gamma misura 50x 28 centimetri e pesa 3,4 kg, il che lo rende perfetto per una grigliata da urlo in occasione del vostro prossimo raduno all'aperto. Con una potenza di 1900-2300 W, questo grill è in grado di gestire qualsiasi cosa. Inoltre, la borsa per il trasporto inclusa garantisce che possiate portare il vostro grill con voi ovunque andiate. Non aspettate non più, ordinate oggi stesso il vostro G3 Ferrari Galactic Grill OG 10027. Se siete alla ricerca di un barbecue elettrico di alta qualità che renda il vostro cortile l'invidia del vicinato, non cercate oltre il G3 Ferrari Galactic Grill OG 10027. Numero 4. Outdoor Kef. Questo barbecue elettrico di Outdoor Kef è perfetto per tutti coloro che amano grigliare. Il PW420 è dotato di regolazione del calore su 7 livelli, in modo da poter cucinare ciò che si desidera, esattamente come si desidera. È anche facile e veloce da montare, con una sfera e una griglia in porcellana smaltata facili da pulire. Con un'ampia superficie di grigliatura di 42x32 cm, è perfetto per intrattenere gli ospiti. Questo barbecue elettrico di Outdoor Kef è perfetto per tutti coloro che amano grigliare. Il PW420 è dotato di regolazione del calore su 7 livelli, in modo da poter cucinare ciò che si desidera, esattamente come si desidera. È anche facile e veloce da montare, grazie alla sfera e alla griglia in porcellana smaltata facile da pulire. Con un'ampia superficie di cottura di 42x32 cm, è perfetto per gli ospiti. Terzo posto c'è De Longhi. Il barbecue elettrico De Longhi è il modo perfetto per grigliare le carni, il pesce o le verdure preferite. La griglia a doppia rotazione consente di girare facilmente i cibi senza rovinarli e la vaschetta di raccolta rimovibile può essere riempita d'acqua per grigliare senza produrre fumo. Il materiale termoisolante sulle maniglie e sul corpo lo rende sicuro da usare, mentre l'interruttore on-off con indicatore di funzionamento assicura che si sappia sempre quando il barbecue è acceso. Il barbecue elettrico De Longhi BQ60 è ideale per grigliare sul patio, sul balcone o in giardino. La griglia a doppia rotazione del barbecue elettrico De Longhi BQ60 consente di girare facilmente gli alimenti senza rovinarli. L'interruttore on-off con indicatore di funzionamento consente di sapere sempre quando il barbecue è acceso, mentre il materiale termoisolante sulle maniglie e sul corpo lo rende sicuro da usare. Numero 2. Ariete. L'Ariete 723 Party Grill è una potente padella per grigliate che permette di preparare deliziose, grigliate a casa o sul balcone. È dotata di una griglia in acciaio inox che permette al grasso di cadere nel vassoio di raccolta inferiore, riducendo al minimo il fumo e gli odori. Le dimensioni della griglia di cottura sono 41,5 x 24 cm il barbecue. Elettrico è dotato di due zone di calore per temperature diverse, una per scottare e l'altra per cuocere lentamente la carne alla perfezione. La sua potenza varia da 2.000 W a 3.000 W a seconda delle esigenze. La temperatura può essere impostata tra 60 gradi centigradi e 280 gradi centigradi, utilizzando il termostato. L'Ariete 723 Party Grill è perfetto per grigliare carni, verdure e persino pesce. È possibile cucinare per un gruppo numeroso di persone con facilità grazie alle due zone di calore. Infine, il numero 1 della nostra lista, Samsung TV. Il televisore Samsung Kled Smart TV è un'ottima scelta per chi cerca un televisore di alta qualità e di grande schermo. Questo modello è dotato di un volume di colore del 100%, grazie alla tecnologia Quantum Dot, nonché di HDR quantistico con doppio LED per contrasti più profondi e colori più intensi. Il processore Quantum Lite garantisce immagini reali di grande qualità da qualsiasi sorgente, mentre Bixby e Alexa sono entrambi integrati per le funzionalità di assistente vocale. Inoltre, grazie alla modalità Ambient Mode Plus, questo TV può diventare un bellissimo oggetto d'arte quando non viene utilizzato. Il volume di colore al 100% e il HDR creano un'immagine straordinariamente realistica, mentre il processore Quantum Lite assicura che tutti i contenuti appaiano a... Sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti i mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.